no no solo dei pensieri mi sono fuso con loro invece di osservare cosa sta succedendo mi sono tuffato nella sceneggiatura e la sento reale ecco il problema la riproduzione dei film non è una mia scelta non ho richiesto i vari trailer spaventosi che scorrono sul mio schermo mentale adesso prendiamo quelli spezzoni che ci sconvolgono e chiediamo loro di uscire dalla nostra mente servono solo a farci stare male ricordati e ripeti a te stessa o a te stesso nascere non basta e per rinascere che siamo nati ogni giorno grazie mille per l'ascolto e grazie